Ikea premiata anche da Sodalitas con il premio speciale per le pari opportunità e la valorizzazione delle diversità. A vincere numeri e fatti. In Ikea le donne sono il 58,60% e nelle posizioni manageriali superano il 41%. E per quanto riguarda i dipendenti omosessuali in situazioni di coppie di fatto, l'azienda ha esteso anche a loro i trattamenti aziendali applicati ai discendenti coniugati. Coerente con il claim della sua campagna, basta poco per cambiare. Perché in fondo per cambiare, basta poco.